Il 30 aprile prossimo si svolge invece l'International Jazz Day, una manifestazione che coinvolge tutto il mondo direi perché il jazz è una musica internazionale, ma a Fano è particolarmente sentita e quest'anno ci saranno tre giorni dedicati in modo particolarmente agli allunni, agli studenti delle scuole. Ci siamo concentrati sull'aspetto didattico rivolto ai giovani, perché i giovani sono il futuro, perché i giovani rappresentano la speranza, perché i giovani sono portatori di valori nuovi e quindi ci siamo concentrati. A Fano abbiamo coinvolto le scuole tramite anche l'apporto dei servizi educativi. Abbiamo formato dei gruppi musicali che si alterneranno in queste tre giornate, il 26, il 27 e il 28 di aprile, in modo tale da portare nelle singole scuole questa musica fatta, costruita da questi giovani musicisti, naturalmente coadiuvati e aiutati dai maestri preparatori, così li chiamiamo. Il voglio ricordare che sono Luca del Maestro per la scuola Gandiglio, Marco Pacassoni che è per l'Iceo Marconi di Pesaro, Giorgio Caselli che è per le scuole elementari di Sant'Orso ed altri. Queste sono tre scuole dove la musica fa parte integrante proprio dell'azione didattica. Sì, diciamo che in queste scuole già da tempo si coltiva questa pratica musicale, in particolare la pratica del jazz, che vuole un po' l'improvvisazione, vuole coltivare l'improvvisazione e non ha problemi di stili. Nel senso che ai ragazzi si richiede più che altro di entrare dentro un mondo musicale secondo la loro sensibilità. Maestro Giorgio Caselli, come si articolerà la partecipazione degli studenti all'International Jazz Day? Inizieremo il 26 presso la sede di San Lazzaro del Liceo Artistico e si esibiranno tutte le due band ospiti. La prima è appunto la band Atos della scuola Media Candiglio, la seconda che viene da Pesaro, ci ha fatto questo grandissimo regalo di portarci questo quintetto della scuola del liceo musicale. E il 26 appunto le due band si esibiranno in due set, una alle 10 e una alle 11. Il 27, l'International Jazz Day, appunto ci saranno, c'era la band sul palco, la Mosaico, e ci saranno anche, sono 130 bambini che appunto seguono il progetto da settembre. E quindi loro faranno dalla platea, guideranno anche gli altri, anche quelli più grandi, perché hanno lavorato appunto con me su diversi brani. Uno è Bourbon Street Parade, un dixiel per eccellenza, poi faremo anche un po' di blues. E anche perché una cosa fondamentale, che serve tantissimo appunto a scuola primaria, non avendo gli strumenti, gli faccio fare lo sketch. Il 28 avremo due location per riuscire a coprire tutte le scuole, in questo caso, l'Istituto Compressivo Padalino, ma la sede centrale appunto, e l'Istituto Nuti per riuscire a beccare, a prendere, a far istruire anche i bambini della scuola primaria.